Il sistema Penetron è molto apprezzato nel caso di multi utility, proprio per la sua versatilità in ambienti particolarmente delicati. Noi siamo specialisti nella riparazione di strutture interrate, per cui vasche di contenimento anche a conduzione potabile, in cui fenomeni di controspinta, quindi di contenimento dell'acqua non solo in fase positiva, ma evitare che l'acqua esterna possa contaminare le vasche hanno dato problemi ai metodi tradizionali. La nostra è un'imprimizzazione di massa, per cui le boiacche a cristallizzazione che noi andiamo ad applicare nei substrati si fondono con il cacestruzzo e non patiscono fenomeni di controspinta, per cui siamo particolarmente apprezzati nelle casistiche estreme in cui le vecchie murature sono intrise di acqua e hanno fenomeni di controspinta importanti. Naturalmente il sistema Penetron ha la certificazione per acqua potabile e ha anche una resistenza importante per quanto riguarda gli eventuali reflui, per cui noi abbiamo una tecnologia che può adattarsi anche a pH aggressivi da 3 a 11 in contatto continuo, per cui nella riparazione di strutture esistenti è una tecnologia molto affidabile. Diciamo che il nostro core business sul civile tradizionale sono proprio le vasche bianche, per cui questa vasca strutturale impermeabile concepita sul nuovo ha anche adesso utilizzo nelle vasche di contenimento realizzate nuove, per cui ci trasliamo dal nostro usuale campo applicativo che sono i parcheggi interrati e le fondazioni per applicare queste tecnologie anche sulle vasche di contenimento e le vasche d'acqua potabile. Naturalmente c'è una progettazione nostra, quindi una progettazione del mix design molto importante in cui viene aggiunto come cristallizzante ad effetto self-healing il Penetron Amix, ma dopodiché lo studio della vasca e dei particolari costruttivi è essenziale, per cui l'ufficio tecnico Penetron provvede alla realizzazione della tavola delle impermeabilizzazioni e si accolla all'onere e al rischio di seguire tutte le operazioni di messa in opera nel cancestruzzo in cantiere in modo da garantire prestazione con delle garanzie postume anche importanti, con una polizza postuma delle generali assicurazioni che garantisce l'intervento di chiavi in mano sostanzialmente.